Nella Salone Vescoviglia 10 Reale il Vescovo Monsignor Antonino Raspanti stamani è chiamata raccolta ai sindaci e loro delegati dei 18 comuni della Dioce Siacese per un confronto a viso aperto sulle problematiche dei territori. Tre gli spunti di riflessione su cui si è incentrato il dibattito, ricostruire le città, ovvero dare vita a processi sociali di costruttori di una società migliore, focus su urbanistica, mobilità e uso del territorio, testimoniare la sobrietà e l'equità, il riferimento ai giovani e ai valori e agli stili di vita dettati oggi dall'eccessivo consumismo. L'emergenza educativa come emergenza democratica è terzo punto affrontato con riferimento alla dispersione scolastica, problema comune in molte comunità, terreno fertile per le organizzazioni criminali nella ricerca di nuove leve. L'incontro promosso dal pastore della Chiesa Cese in occasione del percorso sinodale con l'intento di ascoltare e accogliere le sfide che si riscontrano nel mondo del lavoro, in quello sociale e della politica si legge nella nota di invito inviata ai sindaci. Il vescovo Raspanti con affianco Don Vittorio Rocca, referente diocesano del cammino sinodale e il vicario generale Monsignor Agostino Russo hanno ascoltato le istanze dei presenti, preso appunti al fine di dare impulso al reciproco dialogo. Un incontro confronto nel corso del quale ognuno dei partecipanti ha esposto le proprie difficoltà, tante ma anche suggerimenti e progetti coinvolgendo istituzioni laiche e religiose, perseguendo ognuno con le proprie competenze e specificità interventi di sviluppo sociale ed economico delle comunità. Volevamo ascoltare e volevamo ascoltare dalla diretta voce dei amministratori del nostro territorio quali sono le loro osservazioni circa il nostro operato della Chiesa, delle parrocchie, dell'associazionismo, del volontariato, quali sono le cose che potremmo migliorare, le criticità, i punti di forza e in genere come va il rapporto di collaborazione tra la comunità cristiana e l'ente locale. Sono molto soddisfatto, tutti sono intervenuti con grande entusiasmo additando ciò che è stato fatto e anche possibili prospettive e come migliorare in alcuni settori, per ragione per cui davvero sono grato a tutti loro di essere intervenuti, questo ci aiuterà nel cammino che ancora dura per altri tre anni.